Ciao a tutti, nuovo video da Chiavara, sono qui davanti al palazzo di questo qui nero, a fianco al soft map, da Chiavara vedete, perché qui davanti a me c'è un evento SIGA, della SIGA dove stanno pubblicizzando probabilmente un nuovo titolo, hanno allestito tutta quest'area con i marchi SIGA, c'è un po' di pubblicità di sopra con Sonic, vedete, c'è un grande monitor lì davanti, purtroppo non posso entrare a filmare dentro perché appena metti i piedi con la fotocamera arrivano gli addetti, no no no, video no no, video no no, video no, video, video, e niente, mi devo accontentare di farvi il video là fuori, c'è tanta gente, guardate, ha la giacchetta col marchio SIGA, quella ragazza vedete, SIGA, e niente, c'è un po' di festa, in fondo c'è un palco con probabilmente disoccupatori del gioco, di qualche gioco, stavo girando un video di un FANTY STAR ONLINE, probabilmente in arrivo un nuovo episodio, oggi è sabato, e c'è questo evento qui, qui ad Achiabara, oltre al lancio di Pokémon Sun and Moon, purtroppo non posso andare dentro perché niente cacciano, arriva il tipo con il cartello, non video, non video, non foto, neanche le foto si possono fare, provo a fare un giro attorno, faccio un giro attorno, vediamo se fissuori, qua riesco a fare, va anche per vedere cose certe, che vi ho visto, mi pare che dentro c'è un ombrello, ho visto gente con un ombrello, c'è una marea di coda, ah tra l'altro è su tutti i piani, piano terra, primo piano, e secondo piano, e vabbè c'è questo evento, ah ecco di PlayStation VR, PlayStation Camera, si e sarà un gioco nuovo in arrivo sul corso qui stesso, portate la cosa fin dove arriva, per entrare lì dentro non so fare cosa da assistere, come pubblico forse, non lo so, comunque molto bello, un evento Silvia, c'è tanta gente, tanti addetti con la giacchetta di marchio Silvia, stampato sulla giacchetta, ed è una cosa molto bella da vedere, va bene, davanti a questo logo enorme Silvia, vi saluto, ora andremo a Nakano e ci vedremo poi con nuovi video, a Nakano, ciao ciao!